SENT BRAVO SENT BRAVO 70 segnali non identificati nel vostro settore verificate molto divertente comando negativo, passo un modulo ACS potrebbe essere questo, signore SENT BRAVO avvio programma di diagnostica per rilevare difetti di funzionamento comando, spazio aereo libero avete dei contatti fantasma sui radar, passo Zulu X-Ray 6 100 segnali non identificati nel vostro settore riferite negativo comando area libera non so che cosa dirvi forse dipende dal sole ci sono state molte macchie solari Sierra Delta abbiamo un problema con gli ACS vedi niente nel tuo mirino? passo colunque Sierra Delta, ripeti sto rilevando dei caccia sull'A-95 ma come hanno fatto ad arrivare qui? rimanete in attesa controllo l'unità più vicina al settore ricevuto qui 75esimo reggimento Ranger sergente Volley unità Hunter 2-1 mi sentite e passo a tutte le stazioni attenzione sorveglianza satellitare disabilitata i sistemi sono sempre in cosa al momento non risultano operativi il mio settore cadrà entro un'ora abbiamo perso il contatto con la Napoli dov'è il supporto aereo? batterie di contraattacco non in grado di ingaggiare i paracadutisti nemici si sono infiltrati hanno preso posizione siamo circondati ripeto siamo circondati avvistato a PTR uscite andiamo andiamo Overlord qui Hunter 2-1 richiediamo supporto aereo basso Hunter 2-1 il supporto aereo è già impegnato inviato supporto di terra addizionale alla vostra posizione ma ha incontrato forte resistenza passo ricevuto Overlord attenzione ci siamo imbattuti incorazzati nemici e proseguiamo a piedi passo lì Overlord ricevuto buona fortuna chiudo sergette il QG ci ha mandato in quel posto? praticamente si capola non sparate non ingaggiate il PTR ignorano la nostra presenza tenete la destra e stategli dietro rilevo del fumo proveniente dal luogo dello schiazzo ecco dove è precipitato Raptor scusate il fumo per superare il PTR e infilarvi nel piccolo ci siamo ci siamo ci siamo totes che può spok внут Hawai ci siamo in fronte siamo us Grazie a tutti. 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 E' ancora privo di sezio. Avete un vento? C'è altro? Abbiamo rifornimenti sul tetto con una torretta M5. Ramirez, passo il tetto e dai un'occhiata ai rifornimenti. Attenta, signorine, ci sono dei camion a sud. Stanno usando dei fumogeni per coprire l'avanzata! Squadra, qui Hunter 2-1-1-1, passate i visori termici, se li apriamo. Arrivo da sola. Più di due tozzine di nemici a piedi. Andiamo! E' arrivato! 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 Centro perfetto, Anker 2-1, l'ondate di tregua! E' arrivato! Nemici in avvicinamento rapido! E' arrivato! E' arrivato! E' arrivato! E' arrivato! E' arrivato! E' arrivato! Anker 2-1, anker 2-1! Attenzione! E' arrivato! 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 Sue! Grazie! S没有! E' arrivato! Buongiorno fortunato! Andiamo a salvarla!